Salve a tutti amici di Campania Nel Pallone, eccoci qui ritrovati per il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo. Napoli che nella giornata di ieri ha concluso il proprio ritiro in Turchia battendo con il risultato di 3-1 gli inglesi del Crystal Palace e facendo 2-2 al Winter Football Series by Regnum. La seconda amichevole in terra turca va dunque a chiudere la prima fase di questa inedita preparazione invernale e sono stati comunque 10 giorni di lavoro intenso per gli uomini di Luciano Spalletti che oltre ai due test amichevoli hanno svolto ben 11 sedute di allenamento. Adesso la preparazione in vista della ripresa del campionato che ricordiamolo è fissata per il prossimo 4 gennaio proseguirà in quel di Castelvolturno. Il gruppo squadra ha fatto rientro a Napoli già nella serata di ieri atterrando a Capodichino intorno alle ore 23 e gli allenamenti riprenderanno il prossimo mercoledì in seguito a due giorni di riposo. Poi ricordiamo che sabato alle ore 20 e 30 allo stadio Diego Armando Maradona è prevista l'amichevole contro il Villareal che vedrà tra l'altro il ritorno a fuorigrotta di due grandi ex, vale a dire Raul Albiol e Pepe Reina. Inoltre poche ore fa la SSC Napoli ha ufficializzato la quarta ed ultima amichevole che sarà sempre al Maradona contro il Lille e verrà disputata mercoledì 21 dicembre alle ore 20 in punto. Tornando alla gara di ieri contro il Crystal Palace si è trattato indubbiamente di un altro ottimo test contro un avversario molto valido perché ricordiamo che la compagine guidata da Patrick Vieira e Nona in Premier League proprio nel campionato inglese ha vinto quattro delle ultime sei gare disputate ed inoltre rispetto agli azzurri è avanti nella preparazione considerato che appunto la Premier League ripartirà già il prossimo 26 dicembre. Nella prima mezz'ora la gara è stata molto equilibrata ed anche condizionata dal forte maltempo mentre poi in seguito al vantaggio del Crystal Palace nato da un disimpegno sbagliato da parte di Juan Jesus il Napoli ha avuto un'ottima reazione trovando subito l'1-1 con un gol davvero incredibile messo a segno da Victor Rosyman qui il nigeriano riesce con il gambone ad arpionare la palla poi si libera del marcatore con un sombrero e mette in rete con un destro in diagonale quasi da terra davvero una rete da grandissimo attaccante e poi nel secondo tempo nonostante i tanti cambi il Napoli è riuscito a far prevalere la propria superiorità tecnica tattica e di gioco si è vista un'ottima qualità di palleggio oltre ad un pressing alto molto efficace ed il fatto che ciò sia accaduto nonostante i tanti cambi in corsa e anche la sperimentazione di moduli differenti rispetto al 4-3-3 conferma che questa è una squadra completa a 360 gradi con varie frecce al proprio arco che dal punto di vista del gioco ha raggiunto un'identità ben precisa che va al di là di coloro che scendono in campo protagonista assoluto anche della partita di ieri è stato Giacomo Raspadori autore così come nell'amichevole contro l'Antalias por di una doppietta il primo gol è davvero pazzesco un destro terrificante da fuori area che si insacca dritto nel 7 ed è un gol che conferma le grandi capacità balistiche del classe 2000 ex sassuolo che gode di un piede fatato ha delle doti evidenti da cecchino ed è chiaro che ci si interroga se possa esserci un modo per concedergli maggiore spazio come dicevamo anche dopo Antalias por Napoli il classe 2000 dopo il rientro dall'infortunio di Osimen è stato un po' oscurato dallo stesso nigeriano ed è probabile che Spalletti stia sperimentando questi nuovi moduli anche per comunque trovare la soluzione per far sì che Jack Raspadori possa trovare un maggiore minutaggio però allo stesso tempo quando ripartirà il campionato sarà complicato smuoversi dall'ormai consolidato 4-3-3 che ha fatto le fortune degli azzurri nel corso della prima parte di stagione queste ovviamente sono le difficoltà che gli allenatori con a propria disposizione organici organici ampi e di qualità si ritrovano a dover far fronte questa ovviamente è una cosa positiva quella di poter appunto usufruire di un organico molto ampio però poi allo stesso tempo ciò ti costringe a dover fare delle scelte complicate ed appunto la rosa di questo Napoli oggi è talmente ampia e di qualità che il potenziale di determinati elementi potrebbe restare parzialmente oscurato non a caso Giacomo Raspadori è sinora riuscito a dare il meglio di sé nel corso della prima parte di stagione nel periodo in cui non era a disposizione Victor Rosyman per via dell'infortunio così come possiamo fare gli esempi di Elif Elmas e di Leo Ostigard Elmas prima della gara di Bergamo contro l'Atalanta non era riuscito a mettersi particolarmente in mostra nell'arco dei primi tre mesi di stagione essendo comunque chiuso da un Quiccia-Quarascheglia che ovviamente per le prestazioni fornite è diventato un titolare inamovibile però nel momento in cui il Georgiano si è fermato per via della lombalgia Elmas ha risposto presente siglando due gol in due presenze da titolare ricordiamo a Bergamo il gol decisivo ai fini della vittoria al Gewiss Stadium e al Maradona contro l'Udinese il gol del momentaneo 3-0 stessa cosa Ostigard che prima dell'infortunio rimediato da Mir Rachmani aveva trovato pochissimo spazio mentre poi dopo che il Kosovaro è rimasto fermo ai box il centrale norvegese così come Guangesus si è fatto davvero valere alla grande dimostrando comunque di poter costituire un elemento molto valido all'interno dell'organico azzurro e dunque adesso vedremo come Spalletti gestirà le restanti due amichevoli prima della ripresa per quanto riguarda il rientro dei 5 nazionali bisognerà ancora aspettare un po' inizialmente si parlava di 10 giorni di vacanza mentre l'altro giorno Spalletti in conferenza stampa ha dichiarato che i giorni di vacanza concessi ai reduci dal mondiale sono 15 e dunque ragionando su quest'ottica Anghissà ed Olivera dovrebbero fare rientro a Napoli il 17 dicembre Zielinski il 19 mentre Kim Min-Jae il giorno 21 il primo ad aver abbandonato la competizione è stato Irving Lozzano che se non sbaglio con il suo Messico è stato eliminato intorno al 30 novembre quindi lui dovrebbe tornare tra il 14 e il 15 ovviamente di questo mese oltre poi tornando alla gara di ieri oltre all'esaltazione di quelli che sono gli aspetti tecnici e tattici c'è da confermare il grande carattere di cui gode questa squadra oltre all'evidente consapevolezza della propria forza una consapevolezza della propria forza che è visibile anche nelle parole e nel volto di Luciano Spalletti che personalmente nella conferenza stampa di sabato l'ho visto davvero molto fiducioso molto soddisfatto di ciò che la squadra ha svolto anche nel corso di questo ritiro ma molto soddisfatto oltre che ripeto degli aspetti di campo anche di quelli che sono gli aspetti umani di quella che è la professionalità che mostra di questa squadra e di quello che è lo spirito di appartenenza mister Luciano ci ha tenuto ancora una volta a ribadire che questa sosta farà bene alla squadra ha anche dichiarato che molto probabilmente nel caso in cui non ci si fosse fermati il Napoli avrebbe lasciato per strada a qualche punto considerato che comunque come avevamo detto anche nel post Napoli-Udinese nelle ultime gare la squadra cominciava a dare dei piccoli segnali di stanchezza come fisiologico che sia dopo un ruolino di marcia è stata davvero impressionante nell'arco degli interi tre mesi e ricordiamo che è stato un ruolino di marcia portato avanti giocando quasi sempre ogni tre o quattro giorni dunque è sempre da sottolineare ciò che di incredibilmente straordinario questa squadra è riuscita a fare nel corso della prima parte di stagione e come dichiarato dallo stesso Spalletti questa pausa può permetterci di poter ripartire forte dal prossimo 4 gennaio la qualcosa ovviamente ce l'auguriamo tutti nel corso di queste settimane mezza Italia sta invocando il calo del Napoli ma così come dichiarato qualche giorno fa da Giovanni Simeone l'obiettivo sarà quello di far stancare coloro che continuano a sperare nel calo del nostro Napoli e dunque detto questo è al momento tutto appuntamento alla giornata di sabato dall'esterno del Maradona per il pre e il post gara di Napoli-Viglia Real e detto questo auguro un buon proseguimento di serata a tutti gli ascoltatori di Campania nel pallone